di jonathan swift i viaggi di gulliver prima parte voce di lorenzo pieri capitolo secondo seconda parte seicento persone furono adibite al mio servizio con relativo stipendio e di qua e di là dalla porta del tempio furono innalzate tende per ricoverarli comodamente 300 sarti ebbero ordine di fabbricarmi un vestito alla moda del paese e i sei più dotti professori dell'impero furono incaricati di insegnarmi la lingua di lilliput si provvide infine a che tutti i cavalli dell'imperatore dei nobili e delle guardie del corpo facessero frequenti esercizi alla mia presenza perché imparassero a non addombrarsi nel vedermi tutti questi ordini furono eseguiti con grande esattezza tre settimane bastarono perché io cominciassi a impadronirmi della loro lingua e durante questo tempo lo stesso imperatore si degnò di farmi visita spesso e di aiutare i miei maestri nella loro opera ogni giorno io mi mettevo in ginocchio dinanzi a lui pregandolo per quel poco che mi permettevano le mie prime nozioni di lingua lillipuziana di sciogliermi dalle catene come temevo egli mi rispose che senza il beneplacito del suo consiglio non poteva prendere tale determinazione e che ad ogni modo occorreva da parte mia un lumos che il min pezzo desmarlo ne sposo cioè un solenne giuramento preventivo di pace inviolabile fra me e i suoi sudditi mi ripete intanto che sarei stato trattato con ogni premura e mi consigliò infine di procacciarmi la stima sua e del suo popolo con la pazienza e la buona condotta un giorno mi domandò se mi sarei avuto per male qualora certi suoi ufficiali avessero avuto l'incarico di perquisirmi essendo supponibile che io recassi addosso armi assai pregiudizievoli alla sicurezza dei suoi stati se erano grosse in proporzione della mia persona volentieri a consentì offrendomi anzi di togliermi i miei abiti e vuotare tutte le tasche alla sua presenza ma a questa offerta fatta un po con parole un po con segni il sovrano rispose che l'operazione doveva essere compiuta da due commissari secondo le leggi dello stato e siccome senza il mio consenso e il mio cortese aiuto essi non avrebbero potuto adempiere il loro mandato egli faceva appello alla mia generosità e lealtà perché le persone dei due funzionari potessero essermi affidate senza timore e pericolo alla sua volta mi prometteva di restituirmi gli oggetti che potessero essermi tolti qualora dovessi lasciare il paese oppure me ne garantiva il rimborso secondo la stima che io stesso avrei potuto farne vennero i due commissari ed io presili in mano li introdussi nelle tasche del mio soprabito e poi successivamente in tutte le altre fuorché in un taschino segreto che non gradivo troppo far visitare da costoro già che conteneva oggetti per mio uso personale e insignificanti per gli altri codesti egregi funzionari tratti fuori penna e carta e calamaio distesero un esattissimo inventario di quanto avevano trovato indi mi pregarono di scaricarli in terra finché potessero riferire all'imperatore l'esito della visita ecco tradotto parola per parola l'inventario del quale potei prendere visione più tardi in primis abbiamo trovato dopo una scrupolosa ricerca nella tasca sinistra del soprabito del grande uomo montagna così renderei l'espressione quimbus flestrin un pezzo di tela grossolana tanto grande da poter servire come tappeto per il pavimento della sala maggiore di vostra maestà nella tasca sinistra abbiamo trovato un grosso cofano d'argento con un coperchio pure d'argento che non potemmo sollevare tanto era pesante dietro nostra preghiera l'uomo montagna lo ha perse e uno di noi essendovi entrato affondò fino ai ginocchi in una polvere i cui granelli entrandoci nel naso ci fecero terribilmente starnutire nella tasca destra della giacca abbiamo trovato un enorme pacco di fogli bianchi e sottili piegati l'uno sull'altro alti come circa tre uomini e legati con una grossissima fune sopra la loro superficie vedremo molti segni e figure nere simili a lettere ciascuna delle quali era grande come metà del palmo della nostra mano nella tasca sinistra troviamo un meccanismo fornito di venti lunghi denti similiante alle palizzate che circondano la corte di vostra maestà probabilmente l'uomo montagna si serve di questo arnese per pettinarsi ma data la difficoltà di fargli capire la nostra lingua abbiamo rinunziato a interrogarlo su questo proposito nella tasca grande a destra del suo coprimezzo così traduco la parola rinfullo col quale essi intendevano alludere ai miei pantaloni abbiamo visto un cilindro di ferro vuoto grande all'incirca come un uomo e attaccato ad un pezzo di legno un po più largo da una parte del cilindro sporgevano alcuni strani pezzi di ferro che non sapremmo definire un'altra macchina uguale stava nella tasca grande a sinistra nel taschino a sinistra trovammo molti dischi di metallo rosso o bianco di grossezza variabile rotondi e piatti alcuni di essi che ci sono sembrati d'argento erano così grossi e pesanti che in due durammo fatica ad alzarli nell'alto del coprimezzo dell'uomo montagna vedemo altri due taschini le cui aperture restavano serrate dalla pressione del ventre fuori del taschino sinistro ciondolava una grossa catena d'argento che reggeva una macchina davvero meravigliosa avendogli comandato di estrarre ciò che era attaccato alla catena vedemmo comparire un globo fatto per metà d'argento e per metà ad un metallo trasparente sopra verranno tracciati in circolo alcuni strani segni tentammo di toccarli ma le nostre dita non poterono oltrepassare quella sostanza diafana egli ci ha accostato agli orecchi codesta macchina essa faceva un rumore continuo simile a quello d'un mulino ad acqua noi supponiamo che si tratti di un animale di nuova natura oppure di una divinità che costui adora ma quest'ultima ipotesi è più verosimile perché egli ci ha detto se non abbiamo interpretato male il suo orribile linguaggio che non faceva mai nulla senza consultarla essendo quello il suo oracolo che segnava il tempo per ogni azione della sua vita nel taschino sinistro davanti trovammo una reticella grande abbastanza per poter servire ad un pescatore ma che si apriva e si chiudeva come una borsetta dentro verano parecchi dischi massicci di un metallo giallo se sono d'oro vero il loro valore è certamente enorme dopo aver così frugato accuratamente tutte le tasche dell'uomo montagna secondo gli ordini di vostra maestà abbiamo osservato intorno alla vita di costui una cintura fatta con la pelle di qualche mostruoso animale da cui pendevano a sinistra una spada lunga cinque uomini e a destra una borsetta divisa in due scompartimenti ciascuno della capacità di tre uomini in uno di essi stavano parecchi globi grossi circa come la nostra testa di un metallo pesantissimo tanto che solo un braccio molto forte avrebbe potuto sollevarli nell'altro scompartimento stava una quantità di granelli nerastri piccoli e abbastanza leggeri tanto che potevamo sostenerne più di 50 sul palmo della mano è questo l'esatto inventario di quanto abbiamo potuto trovare sulla persona dell'uomo montagna il quale ci ha trattati del resto cortesemente e con tutto il riguardo dovuto ad una commissione di vostra maestà firmato e bollato il giorno quarto dell'ottantanovesima luna del felice regno di vostra maestà cleffen frelock marsi frelock quando fu letto l'inventario in presenza del sovrano questi molto gentilmente mi disse di consegnargli tutti i codesti oggetti era stato dato ordine a 3000 dei suoi migliori soldati di starmi intorno ad una certa distanza pronti a scaricare le loro frecce sopra di me ma io avendo gli occhi fissi sopra l'imperatore non mi accorsi di tanti preparativi ad ogni modo quando sua maestà mi chiese la mia sciabola mi affrettai a staccarla dalla cintura e gli mi ordinò allora di sguainarla la lama benché un po arrugginita dall'acqua di mare era abbastanza lucida per abbagliare i soldati circostanti i quali alzarono grandi strida il sovrano mi comandò di rimettere la spada nel fodero e di gettarla in terra a sei piedi più in là della lunghezza della mia catena in seguito mi domandò uno dei cilindri vuoti di ferro come si chiamavano le mie pistole tascabili gliele mostrai cercando alla meglio di spiegargliene l'uso quindi le caricai a polvere e dopo aver avvertito il sovrano di non aver paura le scaricai in aria lo sbalordimento dei circostanti questa volta fu molto maggiore che per la vista della mia sciabola essi cascarono tutti all'indietro come se il fulmine li avesse toccati e lo stesso imperatore sebbene coraggiosissimo ebbe bisogno di un po di tempo per rimettersi dal terrore provato io gli consegnai le due pistole insieme ai sacchetti della polvere e del piombo avvertendolo di non accostare fuoco alcuno al sacco della polvere se non voleva saltare per aria col suo palazzo ciò che gli fece molta meraviglia gli diedi anche il mio orologio che gli desiderava molto di vedere e gli fu recato da due guardie tra le più forti le quali lo portarono sulle spalle infilato in un grosso bastone come da noi i garzoni dei birrai portano i fusti della birra il rumore continuo dell'orologio stupiva enormemente il sovrano non meno del movimento della lancetta che segna i minuti che egli poteva facilmente seguire avendo quella gente una vista assai più acuta della nostra su questo argomento egli domandò l'opinione dei suoi scienziati i responsi dei quali furono naturalmente molto disparati io ne capì poco e perciò non sto a riferirne finalmente consegnai le mie monete d'argento e di bronzo e la mia borsa con nove monete grandi d'oro e qualcuna piccola il mio pettine la mia tabacchiera d'argento il fazzoletto e il tacquino la sciabola le pistole e i sacchi della polvere delle palle furono trasportate all'arsenale imperiale tutto il resto mi fu restituito avevo anche un taschino segreto che non fu perquisito dove tenevo un paio di occhiali di cui talora mi servo per la debolezza della mia vista un piccolo telescopio e qualche altra bazzecola che credetti poco interessante per l'imperatore e che perciò non mostrai ai commissari temendo che mi fossero in qualche modo guastate o perdute felice